Forse anche le centrali di difesa Sì, ma è così difficile far capire il gioco di Zeeman, è così difficile lavorare a Roma? Perché? Ma non lo so, è difficile lavorare a Roma? No, è difficile lavorare a una grande piazza Più grande è la piazza, più sono le aspettative, più difficile è Ma probabilmente hai anche giocatori più adatti E in qualche senso danno uno spessore diverso per poter sopprire la piazza Ma è tutto normale, anche la Lazio mi sembra che giochi e si alleni a Roma E stanno avendo un rendimento straordinario quest'anno